Ed eccoci qui, ben ritrovati per questa puntata di Just Today, in questo sabato 25 marzo 2023 ci ha raggiunto nel frattempo il nostro primo ospite Antonio Colasanto, giurista e scrittore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ovviamente. Lo avevamo detto all'inizio di questa puntata, il 21 marzo è stata anche la giornata nazionale di libera con la quale si ricorda ogni anno quelle che sono le vittime innocenti di mafia e questa giornata nazionale sulla legalità istituita, voluta dal Parlamento italiano. Antonio, noi siamo qui perché tu hai da poco pubblicato un libro, che è il tuo primo libro tra l'altro, lo possiamo anche vedere in regia, Favugne, Storie di mafia foggiana, è un libro dedicato a quella che è ormai definita come quarta mafia, nel senso che abbiamo anche detto in premessa, eccolo qui il libro, lo vedete, il bene comune edizioni, le indagini ormai dicono che quella foggiana dopo dell'andrancata, della camorra e chiaramente dopo Cosa Nostra è un po' la quarta mafia, anche dopo quello che è stato il depotenziamento in qualche modo della Sacra Corona Unita, per tanto tempo si è cercato di inquadrare la Sacra Corona Unita come se fosse la stessa cosa con la mafia foggiana, invece gli investigatori non aiutano, guardate, è qualcosa completamente di nuovo ed è stato spesso anche rilevato dagli investigatori che probabilmente per tanto tempo se ne è parlato anche poco. Credo che parti anche da questo, con questo libro, come nasce l'idea di scrivere qualcosa su una mafia che ti riguarda da vicino, non perché è direttamente coinvolto, ma perché quei posti, quelli di Foggia, li hai vissuti da bambino, da studente, da universitario. Allora, prima di tutto vi ringrazio per questo invito, diciamo questo libro, se potessimo individuare una massima che lo riesca a descrivere, è quello dell'Amor Omnia Vincit, praticamente virgiliano, ossia diciamo che dentro questo libro si racchiude un po' tutte quelle che sono le mie passioni, quindi partiamo prima di tutto dalla passione per la scrittura, ovviamente, che mi accompagna da sempre e ovviamente poi una passione viscerale, un amore viscerale per quello che è la mia terra, sostanzialmente. È una passione che si è accresciuta nonostante io mi sia allontanato da essa, perché comunque ovviamente come tanti giovani ho dovuto trasferirmi via per questioni lavorative, però diciamo appunto nel momento in cui mi sono trasferito questo amore è diventato ancora più forte, ancora più passionale, ecco. ed è, diciamo, proprio questo amore ad avermi, tra parentesi, fatto un po', avermi aiutato a neutralizzare quella che poteva essere la paura di scrivere un libro dove ovviamente non solo si parla di fatti, ma si parla anche di nomi, vengono citati dei nomi, dei soprannomi. Io l'ho fatto, l'ho fatto mettendoci la mia faccia, perché credo che, diciamo, per effettivamente rendere un messaggio che sia efficace nei confronti, in questo caso, della società civile foggiana, ma io credo ovviamente, come hai detto tu stesso, è un fenomeno comunque che non coinvolge solo ed esclusivamente la società civile foggiana, ma coinvolge l'intero panorama nazionale, perché appunto parliamo di una fenomenologia mafiosa che ha raggiunto dei livelli di pericolosità sociale ed efferatezza che sono devastanti, ecco. E appunto per quello ho deciso di scrivere questo libro proprio rivolgendomi ai ragazzi, ragazzi non solo foggiani, ma ragazzi di tutta Italia, per dare una sorta di va de vencum, di guida, ecco, per conoscere un fenomeno che a mio parere è stato tendenzialmente sottovalutato per troppi anni e questa sottovalutazione non ha fatto altro che acuirne appunto questa pericolosità sociale. Antonio, il libro parte da un episodio che ti ha riguardato direttamente, parte dal 21 settembre del 99, avevi 12 anni, parte da un omicidio, da un omicidio per sbaglio, di una persona che era, anche in questo caso, come in tanti altri casi che riguardano sfortunatamente le vittime di mafia, nel posto sbagliato, al momento però giusto probabilmente per la mafia. Cosa pensi sia cambiato da allora ad oggi nella percezione di questo fenomeno da parte degli studenti? Come lo hai vissuto tu quando avevi 12 anni? Come credi lo vivano oggi? Come credi lo viva oggi uno studente di 12 anni se se ne parla? E anche rispetto ai nomi. Probabilmente noi, ecco, la nostra generazione arriva da una generazione quando avevamo 10-12 anni, anche fare il nome, il cognome del bosso mafioso non era così scontato. Oggi c'è un'altra percezione. Allora, credo sicuramente che i ragazzi di oggi, a differenza ovviamente di noi che, come dire, abbiamo più di 30 anni, sono sicuramente molto più sensibili a questa fenomenologia, sicuramente sono più interessati alle tematiche appunto relative alla criminalità organizzata. Però io credo che, soprattutto da un punto di vista dei ragazzi di Foggia, c'è ancora una tendenziale paura a parlare non di questo fenomeno ma dei protagonisti di questo fenomeno. Perché ricordiamo che i protagonisti di questo fenomeno sono gli stessi di quelli che c'erano all'epoca in cui accadde quel triste, purtroppo, omicidio di Matteo Di Candia, perché è giusto farne il nome, ecco, una povera vittima di mafia totalmente innocente, totalmente scevra da ogni, come dire, coinvolgimento, ecco, rispetto a questa organizzazione. Io all'epoca l'ho vissuta come una sorta, io nel libro la chiamo perdita dell'innocenza, proprio perché io sicuramente sapevo cosa fosse la mafia, più che altro perché i miei genitori ovviamente mi hanno sempre, tra parentesi, indirizzato verso dei percorsi di vita che fossero coscienziosi e fossero ovviamente fedeli, ecco, al senso di legalità e di rispetto delle regole. Però non sapevo che a Foggia ci fosse la mafia. Io credevo, l'ho sempre appunto considerato come un fenomeno distante, ecco, sia socialmente ma sia proprio territorialmente. Mio padre mi aveva parlato di Palermo, di Napoli, ma io non credevo che a Foggia ci fosse quel tipo di fenomeno. Ovviamente questo è andato un po' a riunire i pezzi di un mosaico che mi ero creato da bambino, ma più che altro perché vengo da un quartiere dove effettivamente si è sempre percepita questa presenza, ecco. Però all'epoca credevo che si trattasse al massimo, ecco, di micro criminalità. Non credevo che vi potessero essere dei delitti, come quello di Matteo Di Candia, riconducibili ad un'organizzazione criminale. Nel tuo libro fai riferimento anche ad un episodio del 2006, ad un altro eccellente omicidio di mafia, chiamiamolo così, e fai riferimento a quella che fu la reazione della società foggiana, della parte buona della città. Che è una parte buona che poi c'è in ogni città, che sia Napoli, che sia Reggio Calabria, che sia Palermo, che siano queste regioni. Negli anni la mafia si è evoluta, si dice spara di meno, ma probabilmente uccide di più, uccide di più magari le imprese, il lato produttivo delle società. La reazione oggi com'è? È diversa o no? Abbiamo detto si spara di meno, muovono probabilmente meno persone in mezzo alla strada, però ci sono più società, più imprese che vengono colpite da quelli che sono i provvedimenti interdittivi antimafia, perché probabilmente la mafia si infiltra in una società, cerca di entrare nel tessuto produttivo. Quale credi debba essere oggi la risposta della società comune che deve essere chiaramente una risposta diversa rispetto a quella di prima? Allora, sicuramente, come hai detto tu stesso, la mafia si è evoluta, e ovviamente questo è un po' secondo me un trend generale di tutte le organizzazioni criminali. Dopo la stagione stragistica di Rina, fondamentalmente tutte le mafie hanno iniziato ad adottare un profilo, passami il termine, governativo, nel senso quello delle infiltrazioni insieme alla pubblica amministrazione, ovviamente anche quello dello sviluppo di una capacità imprenditoriale proprio mafiosa. Io credo, ovviamente, e non è pura retorica, ecco questa, che la reazione della nostra società civile dovrebbe essere sempre quella, prima di tutto, del prendere coscienza di questo problema, di non far finta di nulla, di non voltarsi dall'altra parte, soprattutto riferendomi ovviamente ai titolari degli esercizi commerciali quello di denunciare, perché è l'unica forma di tutela e non autotutela, citando appunto un termine, magari fuori luogo in questo caso, perché comunque le istituzioni ci sono, lo Stato c'è, secondo me, soprattutto in questi ultimi anni, le forze dell'ordine hanno dimostrato una capillare presa di posizione rispetto appunto a questa fenomenologia e lo testimoniano i numerosissimi arresti, di fatto la maggior parte dei capi famiglia, ecco, sono dietro le sbarre al momento, però le istituzioni hanno bisogno ovviamente anche di una presa di posizione da parte nostra, una rivoluzione culturale, citando ovviamente Falcone e Borsellino, che deve partire dalle fondamenta, deve partire dai ragazzi, dalle scuole, dai centri aggregativi, senza di questo l'attività delle istituzioni è nulla, non può senza appunto l'abbraccio da parte della società civile. Oltre alle istituzioni, tu parli nel libro anche dello ruolo dei media, dei giornalisti, dici incorrono in errori interpretativi imperdonabili, ingiustificabili, è cambiato l'approccio anche dei media secondo te o no? All'inizio l'avamo detto, spesso nel passato si è cercato anche di identificare quella che è la quarta mafia, quella poggiana, quella sacra corona unita, poi ci sono dovute essere appunto delle indagini, delle sentenze dei giudici per accertare che si tratti effettivamente di un fenomeno autonomo completamente separato pur se con rapporti con altre mafie. Qual è oggi secondo te l'attività che hanno i giornali, i media rispetto al fenomeno? Ma allora sicuramente io sono uno strenuo difensore della stampa locale, soprattutto quella foggiana, perché si è sempre molto impegnato e soprattutto ha sempre avuto una ricostruzione dei fatti fedele alla realtà. A differenza invece della stampa nazionale, che a mio parere, non lo so, vedo una sorta di disinteresse verso questo fenomeno. Ma me ne accorgo anche stupidamente, guardando sui social, anche su LinkedIn per esempio, si parla sempre e troppo del passato di mafia siciliana, di indrangheta che ovviamente è un fenomeno tuttora ultrapresente e forse anche preponderante, però io credo che si debba anche dedicare un po' di spazio a questa mafia che appunto proprio per questa sottovalutazione ha totalmente conquistato i nostri territori. Ecco, quindi diciamo che mi auguro in futuro che non si incorra in più in errori interpretativi, perché purtroppo accade ancora adesso, la prima sentenza sulla mafia foggiana risale a metà degli anni 90 e tuttora si tende ad accomunarla a fenomeni mafiosi che magari all'epoca avevano una certa eco-mediatica, ecco come la Sacra Corona Unita che tu hai citato. Quindi spero che la mafia foggiana venga trattata come un fenomeno uti singoli, quindi come un fenomeno specifico, differente e con una propria personalità diversa rispetto a quella delle altre fenomenologie. Ci fermiamo solo qualche minuto per un blocco pubblicitario e poi torniamo soprattutto sul lato creativo di questo lavoro, a partire dal nome per arrivare anche a quella che è l'immagine di copertina di libro. E' stato con noi, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Le 9 e 13 minuti, ben ritrovati su Padre Pio TV, siamo ancora in compagnia con il nostro ospite di questa puntata, Sant'Antonio Colasanto, giurista, scrittore, per la presentazione di questo libro Favugno e storie di mafia foggiana. Ripartiamo dal titolo. Favugno è scritto, diciamo, in lingua madre, ma si riferisce a Favugno. Tu dici nel libro Il vento caldo del tavoliere, perché utilizzare questo nome per un libro che racconta di mafia? Ma allora, diciamo, ogni persona, secondo me, un po' riporta sempre tutto quello che fa, quelle che sono le sue radici culturali o comunque linguistiche, ecco. E mio nonno, mio padre, anche quando arrivava questo vento caldo, ecco, d'estate, mi hanno sempre detto in dialetto foggiano è arrivato Favugno e mi ha sempre dato l'idea, appunto, di questa cappa di calore che ti soffoca, ecco, non ti fa respirare. E effettivamente, secondo me, non c'è metafora migliore, ecco, più calzante di questa per descrivere, appunto, quello che è, quelli che sono le mani sulla città, citando, appunto, un film, le mani della società foggiana sul nostro territorio, perché, appunto, è una vera e propria morsa che non fa respirare, che soffoca l'intero ecosistema, tutti i gangli economico-sociali della città. E, appunto, speriamo che, almeno, non credo con questo libro, ma in generale, ecco, per il futuro che arrivi un po' d'aria fresca, sicuramente. Tu, dopo la formazione, affoggio degli studi anche universitari, oggi sei a Milano, ma, in realtà, con il cuore, spesso anche sempre ancora giù a Foggia. Borsellino diceva su Palermo, Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Tu fai, nel libro, credo, un passaggio molto simile a questa frase di Borsellino, dici, definisco spesso Foggia la più ingrata delle madri, perché costringe i suoi figli più meritevoli ad allontanarsi, ma non si può non amare una madre per quanto sia sconsiderata ed equista. Sarebbe un atto innaturale. Beh, sicuramente, diciamo, a parte che hai citato, diciamo, una delle parti più sentite, ecco, del libro più personale, sostanzialmente. E sicuramente la, diciamo, la citazione che hai fatto di Borsellino è pienamente calzante, ecco, anche perché effettivamente, forse, si ama ancora di più una madre quando è proprio sconsiderata, quando è proprio egoista, quando non ti dà attenzioni, ecco. Ed è quello che io credo percepiamo un po' tutti i ragazzi eccofoggiani, soprattutto quelli della nostra generazione, fondamentalmente. Una generazione, appunto, costretta ad andare via, non solo per questioni lavorative, ma anche per una questione proprio di, diciamo, piattezza a livello anche culturale, purtroppo, perché comunque quando i membri più meritevoli di una società vanno via, la città muore, viene abbandonata a se stessa. Io, come dico spesso, spero effettivamente che per il futuro ci sia una sorta di ritorno alle origini, o la chiamo logica della restituzione. Cioè che tutti coloro i quali, ovviamente, abbiano la possibilità di farlo, spero che ritornino a casa loro, nella propria città, proprio per ridestarla, ecco, proprio per dare una sorta di nuova luce a questa città, perché secondo me, diciamo, a dispetto di quello che purtroppo si racconta in giro su Foggia, Foggia è una città bellissima, vanta delle bellezze, ecco, non solo naturali, ma anche vere e proprie bellezze sociali, perché secondo me il popolo foggiano è un popolo che, in fondo, è un popolo sensibile a determinate problematiche e può evolvere in senso positivo, secondo me. Antonio, ti porto su un posto che hai fatto su Facebook un po' di tempo fa, lo vediamo anche, se la legge ce l'ho, ma neccolo qui, avevi scritto se queste pagine vedranno la luce sarà per la vostra stella che da sempre mi conduce, ed è in realtà un bigliettino che tu hai lasciato a Palermo, alla strage, nell'albero di Via D'Amelio, dove appunto si ricorda la strage di Via D'Amelio, quanto è stata importante la guida, ecco, di qualche modo di Falcone e Borsellini? Beh, sicuramente, diciamo, sono un po', molte persone magari hanno gli angeli custodi, hanno i santi protettori, io ho loro, ecco, da sempre che mi guidano verso quello che fondamentalmente sento dentro, ecco, determinate emozioni, determinate ambizioni soprattutto, e ovviamente, diciamo, me li sono tatuati addosso, ecco, proprio per descrivere il fatto che fanno parte di me sostanzialmente, ma in realtà non bisogna mai dimenticare che Falcone e Borsellino sono dei simboli di un'idea, ecco, un principio, che è quello appunto della legalità, del rispetto delle regole, e ovviamente, appunto, mostrandomi questa foto ricordo anche quello che è accaduto in quel momento, perché praticamente io, proprio in quel momento, mi sono trovato davanti Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, ed è stata, non lo so, una cosa strana, forse, rimanendo appunto in tema di Telepadre Più, un qualcosa di, non lo so, ecco, un segno, un segno soprannaturale, ecco, nel senso, ho lasciato quel bigliettino, mi sono trovato di fronte, non lui, ma ovviamente una parte di lui, e non lo so, forse ho percepito in quel momento che probabilmente questo libro avrebbe visto la luce. Senti, Antonio, terminiamo con, un po' con uno strappo alle regole, anche al buon tonno, perché, in realtà, la copertina di questo libro non è un braccio casuale, non è un braccio preso a parte, ma è tratto da un braccio reale, ecco, vediamolo, nel senso, non so se, ecco, lo possiamo mostrare anche a questa telecamera, vediamo la regia, se ci aiuta i nostri tecnici fantastici, come sempre, durante tutte queste puntate del gesto di, ecco, quello che vedete in realtà che è la copertina di Favoni, del libro, è il tatuaggio che tu hai sul tuo braccio, appunto, l'immagine, la famosa immagine storica di Falcone Borsellino e poi un'immagine di Foggia con la scritta Io non ho paura. Allora, grazie Antonio per essere stato con noi, grazie a voi. Grazie a voi. Per questa testimonianza, ricordiamo ancora Favoni di Antonio Colasanto, storie di mafia foggiana, il bene comune, edizioni, eccolo qui, lo vedete anche in grafica e nel frattempo ringraziandoti ancora e invitandosi a quello che sarà anche il perdono del Gargano che è promosso appunto dai frati, dai frati della comunità di San Giovanni Rotondo il prossimo 30 giorni e primo luglio che sarà dedicato proprio al tema della legalità e con alcune testimonianze molto importanti. Per questo scopriremo anche il programma. Grazie ancora. Grazie a voi.